Il crollo sabato scorso con l'intervento di rimozione avvenuto questa mattina a paterno operai al lavoro per togliere il grosso fusto caduto su Via Libertà nel fine settimana a causa del forte vento. L'albero ha colpito in pieno un edificio con danni evidenti alle ringhiere dei due balconi al primo e al secondo piano. Danneggiata anche una vettura che era in sosta davanti l'abitazione. I residenti raccontano dell'enorme paura avuta e della paura che continuano a vivere a causa della presenza di più alberi dal grosso fusto che sembrano mostrare segni di sofferenza. Evidenziano che nonostante alcuni mesi fa tutti gli alberi della villa comunale siano stati sottoposti a controllo per verificarne la staticità, è avvenuto un pericolosissimo crollo che solo per pura fortuna non ha avuto conseguenze ben peggiori. Intanto la villa comunale a Paternò resta chiusa dall'esterno, però è ben visibile il distacco di grossi rami ed il crollo di altri alberi sempre a ridosso di Via Libertà. La preoccupazione si concentra soprattutto per quegli alberi interessati la scorsa estate da un grosso incendio con le ferite ben visibili sia sui rami per metà secchi che sugli stessi fusti.